Musica Quest'anno la collezione Warich è basata su una rivisitazione di un bellissimo libro che abbiamo trovato in Giappone sulla vita di Hemingway e che ha due fasi ben distinte diciamo una è la prima fase cioè fino a che lui non è stato nella parte nord Michigan fino a circa 30 anni dove aveva un'estetica molto legata al caccia e pesca che fa parte un po' della nostra tradizione come marchio Warich però un caccia e pesca molto elegante quindi molto sartoriale Musica Nella seconda parte del libro viene più evidenziata la sua carriera di giornalista di guerra dopo la seconda guerra mondiale e negli anni 70 per quello che ricordava le aree del sud pacifico e quindi le tematiche di questa collezione sono quelle di aver preso questa icona di stile americana e aver valutato i due passaggi della sua storia personale Musica 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 Musica